Troppe emozioni, troppe veramente troppe emozioni, non ho parole per esprimere quello che sto provando. Il mio sogno è quello di farla stilista, per cui mi auguro che accada. Sto studiando lingue, sto facendo una magistrale di lingue e letterature europee, americane e postcoloniali a Ca' Foscari. E sto studiando anche Sartoria. Quando hai sentito il tuo nome? Quali sono le prime cose a cui hai pensato? Che cosa hai provato? Non sapevo se lo stavo immaginando oppure se l'avevano detto veramente. E poi ho realizzato che era vero, però non ci credo ancora. Secondo te quali sono state le caratteristiche per le quali la giuria ha scelto proprio te? Non lo so, forse ho pensato perché sono di Venezia, perché mi ritengo una ragazza semplice e non lo so. Hanno anche detto perché hai gli occhi da gatto veneziano. Ah sì? C'è qualcuno a cui dedichi questa vittoria? Ai miei nonni che non ci sono più e che vorrei che fossero qui con me per festeggiarvi.